Bene, allora, adesso proseguiamo il discorso andando a leggere i primi nomi che troviamo appunto storicamente nella scolastica. Cioè, siamo per quanto riguarda la teologia carolingia, quindi il periodo che appunto inizia proprio con l'insediarsi, con la presa a potere di Carlo Magno. La prima scolastica inizia con la rinascita carolingia, la quale, tra le altre cose, dà vita anche alla teologia carolingia. Questa denominazione carolingia non ha soltanto una connotazione temporale, cronologica, ma analogamente all'epiteto bizantina, allorché si parla di teologia bizantina, denota un contesto socio-politico-culturale che riceve la sua impronta dall'imperatore Carlo Magno, così come la teologia bizantina subiva l'impronta di Costantino e di Giustiniano. Allora, adesso c'è il concetto veramente importante da capire di tutto questo capitolo, è il fatto che per la prima volta, ecco, anche se era già in qualche modo stato anticipato da Costantino, la teologia entra proprio a servizio anche della politica di espansione, ecco, di espansione proprio dell'impero. Allora, gli obiettivi culturali e religiosi di Carlo Magno, governator omnium christianorum. L'incoronazione imperiale di Carlo Magno nel Natale del 799, ad opera di Papa Leone III, non fu soltanto un grande evento politico, ma anche culturale e religioso. Essa non segna semplicemente la rinascita dell'impero d'Occidente, il Sacro Romano Impero, procurando una nuova unità politica ai popoli e alle nazioni dell'Occidente. La sua portata storica è molto più grande. Infatti, Carlo, il Novus David, come lo chiamava il cuino, Rex et Sacerdos, come lo aveva definito Paolino di Aquilea, intendeva esprimere gli antichi splendori dell'impero romano anche sotto il profilo culturale e religioso. Allora, come si vede qui, Carlo Magno era interessato a dominare, ecco, appunto, come vedete anche i suoi titoli, a essere, diciamo, governatore, ad essere il centro della cristianità. Quindi va, appunto, a preparare il terreno affinché la teologia in qualche modo trovi degli strumenti nella teologia per far sì che, appunto, il suo governo sia quasi come se fosse, appunto, volontà di Dio, come, appunto, vedremo poi andando avanti a leggere. D'altronde, Carlo era perfettamente consapevole della singolare missione che la provvidenza gli aveva assegnato, a soggettare al regno di Cristo tutte le genti europee, ricorrendo, se necessario, anche all'uso delle armi. Questa impresa gli riuscì con i germani, ma non con gli arabi, e promuovere l'educazione cristiana dei propri sudditi, del clero in modo particolare. Così con Carlo Magno riprende forma la chiesa imperiale di Costantino. Allora, siamo qui. Allora, come vedete, quindi, in questo periodo la teologia fa proprio gli interessi del, diciamo, del dominatore di turno, in questo caso di Carlo Magno. Il modello di chiesa che Costantino aveva fissato per la totalità dell'impero, secondo la quale l'imperatore funge da vescovo esterno e opera per la piena attuazione del regno di Dio, in questo mondo, coadiuvando e stimolando l'azione del clero, viene ricalcata da vicino da Carlo Magno. Già prima dell'incoronazione, in una lettera a Papa Leone, Carlo aveva così definito i propri compiti religiosi. È nostro compito con l'aiuto di Dio... Vedete che c'è sempre questo riferimento al fatto che Dio è con noi. Noi siamo qui per governare perché Dio lo vuole. E queste concezioni qui poi le ritroveremo anche nel pensiero di Tommaso d'Aquino, eh? Quindi noi siamo qui, vedi... È nostro compito con l'aiuto di Dio difendere all'esterno la chiesa di Cristo usando le armi, contro gli assalti dei pagani e le devastazioni degli infedeli e consolidarla all'interno mediante la conoscenza della vera fede. Quindi appunto come vedete qui Carlo Magno sta proprio usando il concetto di Dio per poi da un punto di vista appunto di espansione di governo, di potere poi temporale. Quindi la chiesa che emerge in questo periodo teologicamente non è la chiesa di amore, di misericordia, di carità, anzi al contrario, è proprio una potenza egemone che cerca proprio di espandersi, di conquistare addirittura territori. Il vostro compito Padre Santo è come quello di Mosè di alzare le braccia in preghiera e aiutare così il vostro esercito affinché attraverso la vostra intercessione, sotto la guida e protezione di Dio, il popolo cristiano sia sempre vittorioso sui nemici del suo santo nome e il nome del nostro Signore Gesù Cristo sia glorificato in tutto il mondo. Allora come vedete, poi quello che sostengo sempre anch'io, qui non emerge appunto la figura di una concezione di Dio, comunque la figura di una teologia che appunto si è incentrata sull'amore per il prossimo, sull'umiltà, sulla carità, ma in realtà traspare e trasparirà, perché poi questo discorso qui viene portato ai massimi livelli da Tommaso d'Aquino, traspare proprio una volontà di potenza, una volontà di dominio, una volontà di espansione, una volontà di conquista, una volontà che poi è di egocentrismo, anzi di delirio di onnipotenza, di egocentrismo, di questo ego conquistatore che diventa appunto un Dio, che tutti gli altri, cioè i pagani, gli arabi, gli altri popoli, devono temere, a cui devono prostrarsi. Quindi non stupisce che poi appunto nella teologia si sia sviluppato tanto anche il discorso del Cristo Chirios, che appunto come dico vuol dire il Cristo Re, perché se appunto, come poi sostengo sempre, andate a vedere i santini del Cristo Chirios e del Cristo Re, vedrete appunto in realtà che lui sembra un imperatore, cioè ha addosso le vesti da imperatore, cioè le vesti che, o la corona, o lo scettro, che in teoria poi erano tutte cose che lo stesso Carlo Magno indossava. Quindi in realtà si vede chiaramente che quelle concezioni liti o logiche del Cristo Chirios sono state, diciamo, postulate proprio per aiutare questo genere di conquistatori, come in questo caso adesso Carlo Magno, ma poi vedremo più in là nella storia, tante altre persone che in realtà utilizzavano proprio questo messaggio di Cristo per espandersi, per essere temuti e venerati. Quindi il Cristo Chirios va quindi a identificarsi con l'ego di questo o quel conquistatore. Quindi non è un discorso di teologia dell'amore, di teologia della misericordia, perché nella teologia cristiana non c'è niente, soprattutto cattolica, non c'è niente di misericordia o di amore, è tutto incentrato proprio per avere il potere temporale in terra. Allora, parlando del rafforzamento interiore della Chiesa, Carlo aveva di mira prima di tutto l'ordinamento ecclesiastico, la formazione del clero e l'istruzione religiosa del popolo, come del resto il suo consigliere Alcuno spiegava, la formula rex et sacerdos, con l'espressione pontifex in predicazione. Tra l'altro il termine pontifex è pure un termine che in realtà i cattolici hanno scippato ai pagani, come poi appunto sostengono gli stessi testimoni di Giova. Con il ripristino del modulo costantiniano della Chiesa imperiale, la distinzione tra Chiesa e Impero viene meno. L'impero e la Chiesa e viceversa. Qui siamo, eh? Questo consente a Carlo Magno di rivendicare all'imperatore molte prerogative religiose. L'imperatore e ogni principe vengono ora chiamati rector e ecclesie, mentre da parte loro i sudditi nella loro totalità sono definiti fidelis di Dio e dell'imperatore. Quindi appunto come vedete qui, che poi, come dico sempre, questo discorso qui in Tomaso d'Aquino tocca proprio il suo apice. Non esiste un popolo di Dio inteso come siamo tutti uguali, ma esiste in realtà il governatore che governa il popolo di Dio, a cui poi questo popolo di Dio deve obbedienza a questo governatore, che in questo caso è Carlo Magno, proprio perché in realtà questo governatore fa appunto le veci di Dio in terra, come adesso appunto vedremo. Quindi come vedete qui, qui Carlo Magno appunto identifica l'imperatore, identifica colui che tiene il potere e il governo come appunto vicario di Dio. Cioè quindi appunto quando dico che in realtà la teologia è essenzialmente l'ego appunto portato ai massimi livelli, che addirittura va a sognare sfondi di gloria cosmica trascendentale, è proprio perché mi rifaccio a questo studio della teologia, non alla teologia alla Ravasi. Dunque poi, tra i compiti religiosi primari dell'imperatore c'è anche quello di vegliare, controllare e punire per la salvaguardia dell'ortodossia. Il re, avendo ricevuto la missione di vigilare sulla purezza della fede, deve usare la sua autorità per difendere l'ortodossia, come agì Carlo Magno sulla questione dell'adozionismo che fece condannare al concilio di Francoforte. Poi niente, qui si dice che Carlo Magno ha fondato appunto alcune scuole, per quanto riguarda le abbazie, alcuni monasteri, poi appunto per insegnare le arti liberali del Trivium e del Quadrivium, che appunto erano tutti i saperi scientifici dell'epoca. Ecco poi, attraverso l'opera instancabile di Carus Serenissimus, Augustus Magnus e Pacificus Imperatur Romanum Governans Imperium, mette le sue prime radici quella cultura cristiana che si basa sul principio dell'armonia tra fede e ragione e sulla ancillarità non servile, ma corresponsabile della ragione rispetto alla fede. Sia proprio in questo contesto nasce anche, come poi sarà appunto poi ripresa e raggiungerà i suoi vertici da Tommaso d'Aquino, la concezione che la filosofia deve essere l'ancilla della teologia, cioè deve mettersi la ragione, le capacità logico-critiche deduttive devono mettersi a servizio della teologia, perché la teologia aspetta l'ultima parola, perché appunto in realtà la filosofia non è servile, cioè la filosofia non va a servire, cioè la vera filosofia intendiamo, cioè la vera filosofia è pensiero libero e spesso razionale, ecco, del singolo individuo. La filosofia incita le persone ad usare la testa, invece la teologia fa esattamente il contrario, perché la teologia incita le persone a pensare tutti uguali, cioè ad accettare quel dogma lì e a crederlo, guai a metterlo in dubbio. Quindi in realtà con l'avvento del cristianesimo la stessa filosofia viene bloccata, ecco, viene, cioè è come se appunto si dovesse mettere i pensatori, i pensatori liberi, indipendenti, li si mette a servizio di poi quanto dicono i teologi. Ecco, poi per quanto riguarda gli argomenti in generale che poi adesso vedremo per quanto riguarda i vari pensatori di questo periodo, la teologia carolingio, ecco, si tratta di una cultura che è ancora come veicolo la lingua latina, come principale oggetto di studio la scrittura e i sacri canones, come valori fondamentali quelli del Vangelo e come valori complementari quella della classicità greco-romana e quelli nuovi delle popolazioni barbariche come istituzioni basilari, la Chiesa e lo Stato, le quali, nonostante molteplici attriti e conflitti, operano sostanzialmente in sintonia di intenti per realizzare il regno di Dio in questo mondo. Ecco, adesso appunto lo interrompo e proseguo appunto parlando dei pensatori più importanti di questo periodo.